La fotografia macroestrema è il tuo pallino? Ti piacerebbe realizzare delle immagini molto spinte in cui si vedono dettagli molto molto piccoli ma non hai i soldi per comprarti la strumentazione professionale o la voglia di portarti dietro una borsa piena di strumentazione ingombrante? Oggi ti porto una soluzione molto molto interessante per realizzare foto e video di macroestrema con l'aiuto solamente del tuo telefono cellulare e di un piccolo lentino di cui ti vado a parlare nel corso del video. Ma ora senza ulteriori indugi attivo il mio setup usuale e vado a parlarvi dell'argomento di oggi. Vi porto un argomento un po' più leggero del solito perché andremo a vedere un trucchetto un po' particolare per realizzare della fotografia macroestrema con il nostro fedele amico smartphone. Accessorio imprescindibile per la buona riuscita della nostra impresa questo piccolo amico di cui ovviamente vi lascio il link prodotto di amazon nell'infobox. Ora però prima di cominciare voglio ricordarvi che se non siete ancora iscritti al mio canale potete farlo immediatamente cliccando il bottone qui sotto attivate anche la campanella delle notifiche così non vi perdete i prossimi aggiornamenti. Aiutate anche il canale a crescere con un like a questo video e andiamo a incominciare. Ciao a tutti amici bentornati sul mio canale io sono Cesare e oggi parliamo di fotografia con smartphone. Sì perché lo smartphone per quanto sia uno strumento che io non reputo pienamente professionale non mi piace usarlo per lavoro lo uso per diletto ovviamente tuttavia ci sono dei casi in cui utilizzare lo smartphone può avere diversi risvolti positivi e questo secondo me è proprio uno di quei momenti. Ora al di là del fatto che sono troppo contento della black mamba di small rig perché finalmente posso tenere una lucetta in quella posizione quindi quando vi mostro qualcosa la vedete davvero questo sostanzialmente è un monocolo da gioielliere che io vado a utilizzare soprattutto per piccole riparazioni di precisione in particolare l'ho preso per lavorare sui cinturini degli orologi o per sistemare magari le viti degli occhiali da sole o cose del genere però mi è venuta un'idea mentre lo maneggiavo e ho provato avrete già intuito ho provato a fare questo ho provato ad applicare questo lentino sopra alla fotocamera videocamera del mio smartphone i risultati mi hanno lasciato abbastanza a bocca aperta perché nonostante si tratti di una lente non di qualità eccelsa ciò nonostante ha un ingrandimento molto molto pronunciato se ricordo correttamente dalla scheda di amazon stiamo parlando di un ingrandimento 10x che utilizzato a una distanza di messa a fuoco di pochi centimetri ci restituisce delle immagini molto molto particolari andiamo oltre quello che siamo in grado di percepire con il nostro occhio un lentino come questo che è assolutamente inexpensive perché una cosa del genere ce la portiamo a casa per 10 12 euro 18 euro se proprio vogliamo fare gli sboroni e prendiamo il modello top di gamma è un oggetto che può essere applicato sul nostro occhio e ci permette di vedere da vicino un qualcosa su cui stiamo lavorando deve essere un qualcosa di molto piccolo ovviamente qui si parla di cose veramente mignon stiamo parlando di uno strumento che è utile nel momento in cui dobbiamo andare a cambiare la pila di un orologio al quarzo per esempio quindi riusciamo ad andare a vedere bene gli ingranaggi e delle cose veramente molto piccole nel momento però in cui lo usiamo in combinata con uno smartphone che ha la possibilità di zoomare ecco che siamo in grado di ricavare delle immagini molto interessanti premetto che deve essere uno smartphone con la multicamera perché nel momento in cui andiamo a usare questo lentino con uno smartphone con una sola camera quello che succederà è che la nostra inquadratura sarà di questo tipo quindi andremo sì a ingrandire un pochino ma andremo a sfruttare solamente la porzione centrale del nostro fotogramma mentre se andiamo a zoomare ecco che come per magia andiamo a godere appieno della magnificazione che questo strumento ci offre ora per un corretto utilizzo ovviamente questa è una roba un po raffazzonata è assolutamente non professionale però per un corretto utilizzo noi dobbiamo andare a posizionarlo più o meno in corrispondenza della nostra ottica che stiamo utilizzando in quel momento e poi dobbiamo andare a fare un po di fine tuning perché non è preciso non ha un attacco fatto apposta allora perché ve lo segnalo nonostante non sia fatto per questo e nonostante non abbia un attacco fatto apposta ve lo segnalo perché questo strumento ci permette di andare tendenzialmente più vicino rispetto ai lentini fatti apposta per smartphone e da quello che ho potuto constatare ci restituisce anche un'immagine di qualità migliore perché questo plastichino che non gli dai due lire però questo plastichino quando ci guardi dentro occhio non ti restituisce un'immagine molto nitida quindi è molto ben fatto serve per osservare da vicino gioielli dettagli magari di un diamante che si vuole decidere se acquistare o meno per determinarne la purezza se si è capace io non sono capace quindi non lo uso per quello però nasce per questo uno strumento di questo tipo quindi ha una grande precisione nel centro della lente sui bordi diventa molto distorto ed è pieno di aberrazioni cromatiche ovviamente perché è un plastichino ma nel centro è molto molto definito e quindi abbinato a un'ottica come quella del telefono che è abbastanza piccola da guardare qui dentro riusciamo a tirare fuori delle immagini veramente molto interessanti ora uno strumento come questo perché cosa può essere utile per realizzare dettagli di macro estrema assolutamente sì per realizzare fotografie di microstock magari di una texture assolutamente sì quindi esistono molteplici scopi per cui possiamo utilizzare uno strumento come questo abbinato al nostro telefono cellulare ovviamente una cosa che mi riprometto di fare non appena la stagione lo permetterà è andare a utilizzare questo piccolo aggeggino per studiare da vicino magari qualche insetto qualche formicaio qualcosa di molto carino che se vi interessa fatemelo sapere in un commento se vi interessa vi porterò anche sul canale vi farò vedere quanto ci si riesce ad avvicinare e qual è la qualità delle immagini che si riescono a portare a casa con uno strumento di questo tipo è una cosa che vado a fare abbastanza per gioco perché nessun cliente me l'ha chiesto non è una cosa professionale che vado a fare però è una cosa che reputo divertente ed è un momento di svago in cui mi godo un qualcosa che ho comprato perché mi serviva aveva uno scopo assolutamente utilitaristico per me perché gli occhi non sono più quelli di una volta per fare certi lavori di precisione lavoro molto meglio con uno strumento come questo però nel momento in cui lo posso utilizzare per divertimento abbinato a un qualcosa che ho sempre dietro perché lo smartphone è una fotocamera che ho in tasca tutto il giorno tutti i giorni ecco che improvvisamente un qualcosa che avevo già acquistato mi torna utile anche per fare una delle cose che amo di più in assoluto ovvero giocare è una cosa che consiglio sempre a tutti quanti non perdete mai la voglia di giocare di sperimentare cose nuove soprattutto quando vi vengono in mente delle cose di questo tipo che sono assolutamente inexpensive perché l'avevate già acquistato uno strumento come questo magari o comunque perché nel momento in cui andate ad acquistarlo spendete relativamente poco ovviamente questo non va in alcun modo a sostituire una lente macro in particolare vi linko un video che è uscito di recente in cui vi parlavo di cinque buoni motivi per possedere una lente macro lì stiamo parlando di ambito professionale nel momento in cui io vado a introdurre nel mio flusso di lavoro uno strumento come questo non si sta parlando di ambito professionale perché questo non è uno strumento con cui posso presentare un lavoro però è un qualcosa di molto leggero che posso portare con me senza nessunissimo sbattimento e che posso utilizzare alla bisogna per catturare una scena molto molto piccola di un microcosmo che altrimenti rimarrebbe invisibile a occhio nudo ora in tutte le riprese che vi ho fatto vedere in questo video io ho tenuto con due mani questo accrocchio quindi vi rendete conto anche guardando le riprese che non è difficile da usare si riesce a utilizzare si riesce a fare le riprese anche a mano libera quelle che vi ho fatto vedere sono tutte fatte in qui dentro in studio a mano libera quindi si riesce a fare delle cose a mano libera ovviamente non è comodo nel momento in cui andiamo a stabilizzare un pochino il tutto quindi magari possiamo fissare il nostro lentino con un elastico con un pezzo di scoccio a quel punto andiamo a migliorare le nostre riprese ci tenevo però a farvele vedere girate a mano libera perché personalmente sono rimasto sorpreso anche della stabilità che si riesce ad avere da uno strumento di questo tipo sono sorpreso io stesso da quello che è venuto fuori considerato che li ho accostati per gioco mi sono proprio detto ma sì dai vediamo sta stupidata vediamo cosa viene fuori sono rimasto abbastanza scioccato dal risultato che ho tirato fuori e quindi intendo proseguire su questa strada della sperimentazione nel tempo libero ovviamente ogni tanto mi metto lì faccio lo stupido e guardo dentro nel telefono con il lentino davanti devo dire che vengono fuori delle cose molto carine una cosa per esempio su cui lo voglio sperimentare sono le verdure le cose organiche e magari le texture sintetiche come può essere la fibra di carbonio sono veramente curioso di vedere che cosa ne viene fuori e questo potrebbe essere molto interessante per realizzare delle fotografie o anche dei filmati di microstock in particolare se vi interessa guadagnare con la fotografia con i video di stock vi linko in card una playlist in cui ho realizzato già diversi contenuti in cui parlo proprio di questo argomento come si può guadagnare vendendo le nostre foto online a questo punto capite bene che un acquisto di una decina di euro finalizzato a vendere delle fotografie vale tutta la spesa perché a quel punto potenzialmente non solo rientriamo della spesa ma ci andiamo anche a guadagnare tutte le info nel video che vi linko in card bene amici a questo punto fatemi sapere giù nei commenti se siete inorriditi da un tipo di contenuto come questo anche sul mio canale se preferite scattare con la macchina fotografica se da me proprio non ve l'aspettavate perché vi aspettavate serietà e professionalità che vi portassi solo contenuti in cui parlo di prodotti di alta gamma oppure se un contenuto come questo un pochino più leggero e volendo anche un pochino più creativo vi può interessare da vedere più spesso su questo canale vi ricordo anche per chi non l'avesse ancora fatto che l'iscrizione è completamente gratuita per cui non esitate cliccate il bottone qui sotto attivate anche la campanella così non vi perdete le notifiche io vi aspetto come sempre prossimamente qui sul mio canale dove ci saranno altri giochi di luce come questo signori vi do appuntamento al prossimo video ciao ciao ciao